Novità sulla stazione dei parchi. Del medico incontra a Roma il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Del Rio. Il progetto sta a prestazione dei parchi dell'alta velocità che ha trovato nel ministro ovviamente una disponibilità totale, un progetto ambizioso, frenato da qualche miopia che però ha necessità di essere rilanciato. Noi continueremo a lavorarci, il ministro ci ha dato disponibilità, ora con la regione Campania, con il presidente della Basilicata e della Calabria e con i presidenti dei parchi proveremo a instaurare questo tavolo importante per provare a convincere Trenitalia che arrivare giù nel Cilento, che dare questa opportunità a questo ambito territoriale di collegarsi con l'Europa è un'opportunità che non può più aspettare. Non ci sono limiti tecnici, non ci sono impedimenti sull'infrastruttura, non costa nulla perché non c'è bisogno di fare investimenti, è solo una questione di scelta, è una questione di dare attenzione anche ad una realtà minore perché noi non siamo sicuramente la Puglia, non siamo sicuramente la costiera amalfitana o altre realtà, ma noi siamo una realtà che ha una grande potenzialità che corre il rischio di, in tempi brevissimi, perdere ogni competitività se non risolvi il problema dell'accessibilità. Al nord e a sud, a 150 km a sud e a 150 km a nord abbiamo due rapporti che ben funzionano per il turistico e l'alta velocità si ferma su Salerno, tutto il sud della provincia e tutta l'alto cosentino tirrenico e la Basilicata sono completamente tagliati fuori da qualsiasi forma di connessione con l'Europa. Noi questo non ce lo possiamo permettere, altrimenti le nostre imprese turistiche sono destinate a chiudere perché non esiste altro veicolo oggi per accedere in questi territori. Il ministro del Rio, devo dire, con la sua grande esperienza anche di amministratore locale, sindaco di Reggio Emilia sicuramente ha subito colto l'importanza. Noi non possiamo attendere che Trenitalia decida di investire al sud perché non arriverà mai al sud perché ci sono tanti fattori. Non ultimo il peso politico ed economico del trasporto su gomma che al sud d'Italia, in Calabria in modo particolare, è monopolio totale per il trasporto e quindi frena su qualsiasi altra iniziativa. Noi tutto questo non ce lo possiamo permettere e dobbiamo lavorare con intensità e con convincimento a questo progetto.